La gente ha dimenticato cosa sia il rispetto, ma non qui. Per strada non puoi nasconderti dietro al tischietto dell'arbitro e i tuoi piedi devono parlare per te. Ah ah, bello! Qui i fantasisti sono i re, i simulatori vengono messi al basso. Qui i fantasisti sono i re, i simulatori vengono messi al basso. Toccate per canto!